È il trionfo del Rione Cassero e del Cavaliere Luca Innocenzi, l'edizione straordinaria della giostra della Quintana di questo 7 agosto, a recuperare la sfida di giugno rinviata per le norme anti-Covid. Un successo a tutto tondo che incorona in particolare il pertinace al termine di una serie di tornate ricche di colpi di scena e sorprese. Per Luca Innocenzi, Cavaliere Folignate di 38 anni, un successo doppio che fa il paio con l'unica edizione della Quintana andata in scena nel 2020. Undici mesi fa, quando portò al successo sempre il Cassero, la vittoria ne conferma un ruolo indiscusso di punto di riferimento nella panorama delle giostre, appena reduce da un secondo posto la scorsa settimana alla rassegna Quintana di Ascoli, nono sigillo personale in coppia con Guitto, cavallo ormai entrato nell'elite della rassegna Folignate. Per il Cassero è il quattordicesimo palio da mettere in bacheca come uno dei più avvincenti. Già dalla prima tornata, Innocenzi lancia il suo ideale guanto di sfida, scendendo sotto la soglia dei 52, facendo registrare un 51-87 da record, miglior performance personale. L'imprevisto capita a Massimo Gubbini, della Rione Spada, che abbatte una bandierina, mentre Lorenzo Melosso, della Badia, manca un adello e abbatte due bandierine. E nella seconda tornata sono molti altri protagonisti che escono di scena, da Pierluigi Chichini per il contrastanga a Tommaso Finestra, della Maniti, fino alla veterano Lorenzo Paci, della Croce Bianca, e Daniele Scarponi, il più veloce delle prove per il Giotti. Per la terza tornata restano a sfidarsi il Cassero, la Mora, il Croce Bianca e il Pugilli, ma Innocenzi a partire coi favori del pronostico dopo le prime due tornate impeccabili. Parte il Moro, Michelangelo Fondi per il Pugilli, 55-66 per un totale di 2 minuti 47 secondi 29 primi. Subito dopo è il Rione Morlupo, con il baldo Alessandro Candelori, in sella lo Zingaro, 55 secondi 34 primi, per un totale di 2 minuti 44 secondi e 76 primi. Penultimo Mattia Zannorri, generoso del Rione, la Mora, in sella non succederà più, 55 secondi 75 primi, per un totale di 2 minuti 44 secondi e 9 primi. Ultimo a scendere in campo è proprio il pertinace del Rione Cassero, Luca Innocenzi, che col tempo di 54 secondi 8 primi e un complessivo 2 minuti 39 secondi e 10 primi, conquista il Palio e fa felice i rionali del Cassero. Dalla prossima settimana si torna già a provare per la rivincita di settembre.